Calcio e palacanestro, Sardegna è la capitale, Giuseppe Giannini che è stato uno dei più grandi giocatori della storia della Roma, innanzitutto l'amicizia col presidente Stefano Sardara in una location come quella di Selle Mosca che è bellissima e si presta a questo tipo di amicizia. Sì, abbiamo due eccellenze, il presidente Stefano Sardara secondo me nel campo chiaramente sportivo è un'eccellenza come lo è altrettanto Selle Mosca nell'attività vinicola, quindi un grande piacere per me essere stato invitato qui e ho accettato con grande gioia perché poi la Sardegna la conosciamo bene, soprattutto io che da tantissimi ormai anni sono un frequentatore costante ma anche d'inverno come oggi. Giannini è stato un grande campione, oggi per essere campione bisogna avere il talento ma bisogna avere anche tante altre qualità, tanti giocatori che hanno talento poi non arrivano, Giannini su cosa ha fatto leva oltre al talento per essere un grande campione? Intanto nella dedizione, a volte anche nella razionalità perché un grande campione secondo me deve anche saper gestire momenti sia positivi che negativi, abbiamo detto la dedizione perché comunque ci vuole costanza, ci vuole voglia, ci vuole a volte anche quella cattiveria sportiva che serve proprio per emergere e credo ecco abbinata poi chiaramente a doti naturali come il talento che ti accompagnano a un percorso per arrivare poi ad essere un professionista. Roma è difficile vincere a Roma, non è facile però voi avete avuto una squadra che ha avuto tante bandiere, Francesco Totti che è stato un po' il discepolo di Giannini, come si fa a rinunciare tante volte magari dei palcoscenici come Real Madrid per poi diventare una bandiera della propria città? C'è l'affetto, c'è l'appartenenza, quello che in Sardegna trovi soprattutto poi anche nella Dinamo, leggevo, seguivo un pochino da lontano però comunque quando si parla di appartenenza si parla di cuore, si parla di attaccamento alla maglia, al territorio e credo che nella Roma, soprattutto a Roma e nella Roma, ci sia appunto questa appartenenza da parte dei romani, da parte di chi poi esce dal settore giovanile come Francesco, come De Rossi, come me, come Bruno Conti, insomma potremmo citarne di Bartolomei, potremmo citarne tantissimi, in effetti è vero, l'appartenenza poi alla fine fa la differenza. Ti chiedo le ultime due cose, la prima qual è l'allenatore migliore possibile nell'ora moderna, che sappia gestire i giocatori, che ovviamente tutti sono preparati dal punto di vista tecnico, ma chi è che poi fa la differenza? Fa la differenza chi sa, diciamo così, come dire, arrivare ad essere tutt'uno con il calciatore, entrare nella testa del calciatore, io credo che in questo momento Ancelotti sia quello che ha, questo tipo di empatia con i propri giocatori, lo stesso Guardiola, insomma sono allenatori che oltre ad essere bravi poi dopo riescono ad essere, tra virgolette, a fianco, non dico amico, ma a fianco al professionista, al giocatore che ha a disposizione e questo è importante per un calciatore. Ultimissima cosa, che vino sarebbe Giuseppe Giannini? Ma non ho idea, sai, forse è un canonavo, perché vorrei invecchiare migliorando, insomma, sotto tutti i punti di vista, quindi ecco, direi un canonavo. Devi solo scegliere il mobile che ami o il master che preferisci? Al resto pensiamo noi, prestiti personali del Banco di Sardegna.